Libri et homines, la letteratura e la memoria. Con questo breve video vi presentiamo il nostro nuovo progetto di letteratura latina. Si tratta di un'opera di impianto solido, tradizionale, con un ampio repertorio antologico, che vuole raccontare ai ragazzi quanto il mondo della cultura classica ci appartenga e come ritorni a noi con tutte le suggestioni del suo ricco patrimonio. Ciò che abbiamo appena descritto lo troviamo espresso nell'ampio apparato di rubriche che caratterizza l'opera e che sono raccolte sotto i titoli Il nostro patrimonio e Intersezioni. Vi mostriamo ora alcuni esempi. Il codice culturale. Questa è una rubrica in cui si evidenziano gli aspetti peculiari legati al costume, alla società e alla mentalità romana. Qui vediamo un'ampia scheda dedicata all'organizzazione e ai caratteri della famiglia nel mondo latino. Archeologia e arte. In questa rubrica si mette in evidenza il rapporto tra l'arte e le varie attività della vita quotidiana a Roma, con le loro implicazioni legate al costume, alla mentalità e alle tradizioni. Il codice letterario. Qui si racconta il rapporto tra gli stili letterari della tradizione latina e gli influssi derivanti dalle altre culture vicine, così come il rapporto complesso tra la letteratura e il potere. La biblioteca dei classici. È invece una rubrica che mette in evidenza un'opera sulle altre nella produzione dei singoli autori maggiori. In questo caso, vediamo la scelta proposta di alcuni passi significativi dai Carmina di Catullo. Letteratura. È un'altra rubrica dove si operano confronti sui registri espressivi tra l'antico e il moderno. Qui vediamo il confronto tra il concetto di metateatro in Plauto e quello in Luigi Pirandello. La cultura latina ci offre anche un'occasione di confronto con altri ambiti del sapere come l'economia, le scienze naturali, la fisica, l'educazione civica. Libri e Tomines offre ampi spunti di riflessione sulle questioni aperte del nostro tempo. Guardiamo insieme alcune pagine dedicate. Fisica. In questa pagina si evidenzia il confronto di come un concetto cardine della scienza classica, quello dell'atomo, venga reinterpretato alla luce delle scoperte del nostro secolo. Educazione civica. Qui vediamo, invece, un confronto sul tema della schiavitù, elemento onnipresente nel mondo classico e ancora oggi problematica molto attuale. Per concludere, ci preme dirvi ancora che questo progetto tiene conto di tutte le nuove metodologie didattiche di lavoro in classe, al termine di ogni percorso antologico è presente la rubrica Per concludere il percorso, che ha un'attenzione particolare allo sviluppo delle competenze trasversali, il pensiero critico, il lessico, le competenze digitali e il debate. Nella sezione conclusiva degli autori maggiori è sempre presente un laboratorio costruito sulle prove dell'esame di Stato, con proposte di traduzione secondo la metodologia della seconda prova scritta all'esame di Stato del liceo classico, proposte di lavoro secondo la tipologia B e C della prima prova scritta, proposte di sviluppo di una traccia interdisciplinare per il colloquio. Da ultimo, il progetto presenta anche una grande attenzione ai nuovi linguaggi della comunicazione, come potrete vedere nei numerosi video originali presenti e attivabili attraverso la modalità QR Code, nelle aperture delle età storico-letterarie e nelle videosintesi predisposte per gli autori maggiori. Libri et Homines